E beh ragazzi, l'Inter vince ancora al momento, siamo allo scadere del primo tempo, è finito del primo tempo, Inter 1, Sassuolo 0, vi dirò cosa ne penso alla partita Allora, per me è il risultato un po' bugiardo, perché secondo me il risultato più giusto nei 45 minuti almeno era il pari Perché secondo me il Sassuolo ha pure giocato secondo me meglio, perché è vero che è stata una partita con le occasioni da ambo le parti Cioè sia l'Inter che il Sassuolo hanno avuto le occasioni, però l'Inter ha fatto una fatica assurda a uscire dalla prima parte a campo Nei primi 30 minuti l'Inter non mi è piaciuta, non mi è proprio piaciuta Poi secondo me dopo i primi 25-30 minuti di un Inter sottotono, l'Inter si sveglia e inizia a creare Inizia a creare, sì prima era stato annullato il gol a Correa, ma c'era stata una papela di consigli per l'Inter Ma a parte quello non mi ricordo altro, poi da 25-32 minuti l'Inter inizia a creare Comunque quando parte in contropiede è sempre stata pericolosa ecco Penso all'occasione più grande probabilmente Ed è quella con Correa, cross, colpo di testa, palla fuori di nulla veramente Vicinissimo al set, Correa sta meglio, però continua a reputare un giocatore mediocre E poi dopo questa grande occasione arriva un grandissimo gol Che è quello di Romero Lukaku che sta molto meglio rispetto a 4 mesi fa secondo me È un giocatore che si è in forma e è immarcabile È veramente immarcabile, un rovante risolto ha fatto una fatica bestia a marcarlo Ma chiunque perché ha un fisico bestiale E veramente c'è tu Lukaku l'unico modo che hai per fermarlo è tranciarlo Non sarà mai, cioè questo Lukaku secondo me non vale neanche un terzo di quello che era con Conte Però ha fatto un gran gol, ha fatto veramente un gran gol sotto l'incrocio Il giorno del suo compleanno compie 30 anni a Gudi Fa veramente un gran gol sotto l'incrocio e non può nulla il portiere E fa il settimo gol in campionato per Romero Lukaku e non in stagione Chiaro che è un giocatore che sta bene, sta meglio rispetto a 4 mesi fa È un giocatore che non ha numeri eccezionali Anzi tutt'altro, da Lukaku io mi aspettavo almeno una decina di gol in più E in alcune partite mi è sembrato veramente in difficoltà Però è solo da 2 mesi che Lukaku sta cambiando Sta cambiando, sta giocando decisamente di più Non ho capito la scelta di tenere l'autore in panchino In panchina, perché sì, hanno un derby a giocarti martedì Che secondo me ti decide anche una stagione Perché secondo me la stagione dell'Inter quest'anno non è stata positiva Magari in tanti non sarete d'accordo Perché comunque l'Inter bene o male probabilmente in Champions League ci andrà Hanno vinto la Supercoppa Sono in fine Coppa Italia Probabilmente saranno in fine Champions Però 12 sconfitte non sono ammissibili Non vedo proprio un rapporto anche con l'allenatore Quindi per me la stagione dell'Inter rimane negativa So che in molti non sarete d'accordo ma Ci sono delle partite Veramente che dell'Inter Alcune mi hanno convinto ma non hanno vinto E altre per esempio nelle quali l'Inter ha anche giocato ma non segna E post magari una Coppa Europea fa molta fatica E si vede Quindi si la stagione dell'Inter è stata molto positiva in Champions League e nelle Coppe in generale Però in campionato anche se arrivi secondo per me la stagione è stata negativa Perché le altre hanno fatto schifo all'anima La Juve è stata penalizzata Quindi l'Inter per me non ha fatto una stagione Anzi c'è in campionato un ordino Il Sassuolo ci ha provato Il Sassuolo ci ha provato E' stato annullato giustamente a Berardi un gol Per posizioni irregolate di Laurette Penso al colpi di testa di Luis Enrique Che si è mangiato un gol clamoroso A inizio partita Penso al tiro di Berardi Penso al tiro di Frattesi Che secondo me è stato uno dei migliori in campo del Sassuolo Insomma il Sassuolo meritava il pari Secondo me Secondo me meritava i pari Però se non la butti dentro Se la butti dentro Il Sassuolo è sempre quella scuola che con il Big fa la partita E sono convinto che il Sassuolo possa fare una buona partita nel secondo tempo Ci deve credere però E' anche vero che allo stesso tempo deve buttarla dentro Beh E' stata una partita folle Io me l'aspettavo il successo dell'Inter Però è stata una vittoria con diverse difficoltà secondo me Il Sassuolo ha un po' di vimpianti Per non averla parigiata Secondo me Questa partita ce li ha Ce li ha perché il Sassuolo secondo me ha avuto tante occasioni Penso al tiro di Pina Monti Fino fuori di un nulla Penso alle tantissime occasioni del primo tempo Infatti il Sassuolo ha tirato più volte in porta dell'Inter E ha fatto più tiri in generale Quindi il Sassuolo ha creato tanto E' uscita con una sconfitta Sì ma a testa alta A testa altissima Il Sassuolo meritava Secondo me un po' di più Un po' di più Pagano un po' Fu probabilmente L'atteggiamento Del secondo tempo Nei primi minuti Perché ci sono stati due autogol Di tre soldi Uno sul tiro di Bellanova E uno sul tiro di Tora Martinez E lì pensavamo che tutti Cioè Pensavano tutti che ormai la partita era chiusa No? Invece è arrivato il 3-1 Con un colpo di testa E intanto qui No non è succedente Con un colpo di testa Di Matteo Cerico Bella Palla di Berardi E poi arriva il colpo di testa di Frattesi Su un bel cross Aslani sbaglia L'anticipa Frattesi Lo inganna E firma il 3-2 Forse Dal 3-2 Il Sassuolo Non è più riuscito a creare Perché su me In quei Minuti Prima di seguire il secondo gol Il Sassuolo ha creato veramente tanto Il Sassuolo Per 70 Minuti No Per Per 60 minuti 50-60 minuti Ha creato tanto Per me Il Sassuolo poteva fare anche un altro gol Poteva fare anche un altro gol Ma l'Inter ragazzi Ti punisce Ti punisce L'occasione più grande C'era avuta Lukaku Infatti L'ha messa dentro L'ha capitalizzata Al fine del match Palla buona per Lukaku Che batte così Però C'è una sconfitta Per il Sassuolo Ingiusta Per quanto mi riguarda Perché su me Il Sassuolo oggi ha veramente Fatto una bella partita Ha veramente fatto una bella prestazione Anche Berardi Si è messo in mostra Infatti Se guardiamo le statistiche 4 gol da 2 11-10 per l'Inter 6-10 per il Sassuolo 3-10 in porta L'Inter 5 in bordo Il Sassuolo Cioè il Sassuolo ha tirato di più E anche più volte in porta Possessi un palla equilibrata E' stata una partita Anche dalle statistiche Equilibrata Chiaro che Il Sassuolo in più tempo Ha tenuto più la palla Il secondo Ha giocato un po' più Di ripartenza In alcune fasi della partita Chiaro che Però il Sassuolo Non è scelta estantissima L'Inter ha avuto tante difficoltà L'Inter Ora come ora Aggancia la Juve Al secondo posto E supera La Lazio Quindi la Lazio in questo momento Sarebbe Quarta in classifica Cavolo Però la Lazio comunque Ha più 4 sul mio Quinto quindi Credo che non avrà troppi problemi Per la Champions League Vedremo anche la Juve Come sarà penalizzata Di quanti punti Ecco Quindi dipende Da tante cose Dipende Tutto Tutto da tante cose Sì Oggi il migliore in campo L'Inter è stato proprio Lukaku E' stato proprio Lukaku Settimo gol in campione Di Davide Frattesi Di questo giocatore Se ne parla troppo poco Ma E' un calciatore che io Vorrei assolutamente Potrebbe fare ancora più gol Potrebbe fare ancora più gol Giocatore molto molto importante Che si è affermato E si è visto E si è visto Grande prestazione Proprio di Frattesi Buona partita dell'Inter Ma Anche Una partita Di altissimo livello Secondo me Del Sassuolo A parte probabilmente L'atteggiamento Del secondo tempo Nei primi minuti